Fai il video, ok Inquadralo eh Si vede comunque la voce forte Inquadra, inquadra ancora un pochino Facciamo andare lì Vediamo se ce la fa Valla Non ce la fa Eccolo là, l'ha fatta Cosa incredibile Facciamo scendere Oh Vediamo un po' se si ribalta facendo così oppure no Prendilo dentro eh Guarda che è il limite del ribaltamento Prendilo, prendilo, prendilo vicino Ulla, ce l'ha fatta E perché fai i filmini alle macchine? Come? Perché fai i filmini alle macchine? Posso rivedere i miei amici Che ho giocato con te e con le macchine Scusa Guarda, guarda, vai più vicino, vai più vicino Fai di nuovo il limite del ribaltamento Grazie a tutti